Unicorn Zombie Apocalypse Alcina fenomeno? no, assolutamente con Ziqui in natura la stella di musica risolta della finina e dei strati lontanici dopo il portato raccomando Ziqui in natura Ziqui in natura Ziqui in natura e questa è la grande accusa mentre Alberto risponde che invece assolutamente non è vero e che insomma ha un problema di Monica ha detto anche al giudice lo vedete com'è e quindi secondo Alberto Monica è esageratamente insomma cosa a questo voleva dire? ma solo è esagerata in tutto la stessa cosa è che lei è che dice le cose nessuno può interferire non si può avere la propria opinione adesso è sempre deve dare scoprire ma anche a questo è il caffè perché io ho portato davanti 18 anni a mio figlio, e non è vero che io non ho mai fatto vedere, e lui non ha mai dovuto mai cercare un rapporto in intimo con il figlio, questo è il problema, lui non ha mai cercato, perché lui mi difonda superficiali, no, non è, all'inizio si è spazionato, perché l'ha fatta di vestire, d'accordo, poi però cresce, no, da ragazzo è un uomo, quindi quando tu metti al mondo un figlio, tu tieni in secondo piano, la prima cosa è l'ausilio, perché invece lui, siccome è egoista, lui, il suo errore così grande, ha messo sempre più piano, se stesso, la palestra, il lavoro, e poi, è certo, poi, scusami, quando un bambino è piccolo, non è il bambino che cerca il padre, il padre che cerca il bambino, non ha l'azione, lo cresce, lo fa diventare grande, non è il bambino, 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 io lavoravo, io ho già un bambino, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. accendo questa luce che non si vede da mazzo ma vabbè provare a accendere la più più luminosa c'è più alta perché così allora la luce è spenta perché tanto fa caldo ma ho chiuso la finestra perché altrimenti si sentono tutto il baccano vabbè lo so molto youtuber aprono la finestra e si sente tutto il maradam del casino che c'è fuori però io capisco di chiuderla perché chiuderla chiuderla non riesce a parlare non lo so perché sinceramente non mi va di farmi vedere dai miei vicini quindi no lo so che fanno lo so che sanno che faccio video ma a me me ne importa poco di farmi vedere da loro mentre sto registrando ma che se già lo sanno vabbè niente cosa che stavo cercando niente allora se mi starete chiedendo come sto sto bene voi come state non ve l'ho ancora chiesto io ho fatto il letto stamattina l'ho fatto un altro dispositivo letto ovvero ho fatto il letto registrando un altro telefono ma non è il massimo della qualità con questo si vede benissimo e poi che dirvi appunto ho fatto il letto l'ho fatta la buona diciamo ho scosso tutta la lenzuola e poi non lo so parlare lo sapete già benissimo quando mai su parlare e poi ho rimesso tutte le coperte il copri piumone copri piumino sarebbe perché il piumino era mai ciavone c'è un caldo che si crepa e poi ho messo la copertina copri piumino copri piumino che altro sotto c'è una copertina poi la coperta sarebbe poi sopra c'è la copri letto e basta va bene così niente ragazzi tutto lì allora aspettate che vi faccio vedere meglio allora un attimo solo dunque per farvi capire meglio questo è il letto no e sotto c'è la coperta che sarebbe questa qua vedete aspettate un attimo questa coperta qui poi sotto c'è il lenzuola vabbè ma questo è il copri letto sarebbe tutto il copri letto vedete e niente vabbè sotto ci sono tutte le mie scarpe le mie cosine e niente tutte le mie scarpe attrezzi vari per fare video eccetera per fare video e vabbè quelli pochi che ho e niente lì c'è il computer macbook air 13 pollici si vabbè lì c'è la foto di dei sonora di uno dei sonora che non so se lo vedete eccolo qua già e niente lì c'è la foto del quadro della sacra famiglia e da quella parte invece c'è i miei genitori e io vabbè tutti quanti i miei genitori mio padre e mia madre io non so parlare non so perché quando faccio video non so parlare però vabbè niente allora ora ve li metto qua eccoci qua allora ragazze mie vi ho rimesso di nuovo dove eravate prima cioè incastrati al cavalletto quello piccolino da da tavolo e niente ragazzi miei ragazzi miei questo è il video che vi ho fatto vi ho fatto oggi e dopo di questo quando riuscirò a venire per un altro perché sto facendo tutte le rotazioni di collo ma alcuni li cancello alcuni li rifaccio e così via e quindi non lo so vediamo quanti ne posso fare ancora allora questo questo pacchettino di dischetti struccanti maxi ovali pezzi lato tonificante tonificante lato struccante non lasciare pelucche non lasciano i pelucchi scusate stavo leggendo male e che non lasciano i pelucchi cento per cento puro cotone ok 70 pezzi della dei dischetti ovali maxi struccanti vabbè dischetti uguali maxi della fior di magnoli ok oddio mio tanto come la faccia mi diventa il il collirio perché la faccia distrutta non so perché ho dormito bene ma ho sempre questo pioce che mi scendono che mi scendono sapete perché ho dormito bene ma mi rigiriamo e giriamo nel letto mi svegliavo bene è una parola una parolina grossa però sono riuscita a dormire bene perché potuto dormire bene per quel che è potuto dormire bene questo è appunto i dischetti con cui mi sto trovando bene sono delle euro spinter appunto eurospin sono costati intorno all'euro quanto 99 centesimi se non erano 99 correcchietemi se sbaglio sui commenti mi pare proprio di sì 90 centesimi queste cose qua questi dischetti struccanti e nulla scusate una reazione strana però la tosse intanto mi viene perché come sapete l'influenza di quest'anno ma anche dall'anno scorso mi hanno lasciato un piccolo strascico io non solo perché siete storti poi vabbè la telecamera è storta quello di telefono però niente va davanti lo stesso anche con questo piccolo strascico già ciao ragazze a per proseguire un altro video vi lascio questo video qua piaccherici o altro altri video cliccate qui vedete da questa parte ciao a presto un bacio a grazie della compagnia per il caffè e per il mettere tutto a posto io ciao ciao